...alle informazioni, cominciamo con la formazione ospite Sovereiro con il numero 8, il numero 9, il numero 9 e il numero 10, il numero 10, il numero 11, il numero 12, il numero 12, il numero 18, il numero 14, il numero 8 Buongiorno! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!